Sono un po' emozionato mentre sto registrando questo video perché è un invito ed è anche un racconto. È un qualcosa che nasce dal momento stesso in cui Giardino Rivelato viene pubblicato per la prima volta ad agosto del 2019. Giardino Rivelato aveva il desiderio di poter parlare di giardini. Molto semplicemente storie dei giardini, filosofia, persone, esperienze, ricordi, racconti... Qualunque cosa potesse arrivare al giardino, parlarne, raccontarlo. E non tanto per un desiderio di parlare così, tanto per, ma per poter avere delle risposte, per poter dire... Ti interessa? Ok, parliamone. Non ti interessa? Prova ad ascoltare, magari scopri qualcosa che ti risuona dentro, che secondo me è fondamentale. Secondo me tutti abbiamo un grande desiderio di Eden, nel senso proprio del giardino, di questo giardino paradisiaco che ci portiamo dentro, che si manifesta in tutte le cose della nostra vita, la nostra vita quotidiana nelle città, dentro le nostre case. Infatti, per questo, è una cosa che ho sempre fatto, sono dei giardini da tavolo. Riutilizzavo dei contenitori e ci mettevo dentro delle piante tropicali e li facevo in modo tale che si formasse una sorta di piccolo ecosistema, estremamente artificiale, ma che potevo tenere sul tavolo della mia scrivania. Non semplicemente una pianta in vaso, niente contro le piante in vaso, ne ho tante, ma proprio una cosa differente. Racconto spesso che uno dei miei primi giardini da tavolo che avevo fatto in un wok aveva un pacciamato di muschio e aveva poi del capello venere, che è difficilissimo da tenere e molto bello, e questo muschio ogni volta che lo annaffiavo, ogni volta che spruzzavo dell'acqua per tenerlo umido, profumava tutta la mia stanza. Quindi io nel pieno della mia camera, nella mia stanza e della mia casa, avevo questo odore che mi ricordava il bosco. E anche quando non potevo uscire di casa, mi riconnetteva a quel giardino che porto dentro di me, a quel mio rapporto con la natura, con le piante, con gli alberi, con la clorofilla, con tutto quello che è vivo intorno a me. Io penso che sia fondamentale tentare di ristabilire questo rapporto. Ci sono persone che hanno un rapporto molto profondo con la natura e consapevole, e ce ne sono altre che ce l'hanno comunque profondo, ma meno consapevole. Io devo crescere, e probabilmente anche tu, tutti dobbiamo crescere e tentare di viverlo meglio nel tempo, soprattutto ora che viviamo in questo periodo in cui il nostro rapporto con le case, con lo spazio chiuso, con lo spazio pubblico, con lo spazio privato, è cambiato. C'è chi si è messo a cucinare, ci siamo messi a fare tante cose. La mia proposta è di provare a realizzare un giardino. Un giardino nell'arco di sette giorni, in cui io ti guido e tu lo farai insieme a me, online ovviamente, non nella stessa stanza, creare una piccola comunità di poche persone e ogni giorno avanzare di un piccolo passo. Un piccolo passo è confrontarci e mettere insieme le esperienze e dire guarda a me quella cosa riesce più facile di quell'altra, no non so se funziona, ma a me quella pianta non piace. Insomma, un giardino in sette giorni, visto che parliamo di Eden, credo che possa andare bene come paragone. E quindi sono emozionatissimo, sono entusiasta, come quando porti delle persone a farsi conoscere a una festa, perché io attraverso il podcast ho conosciuto tantissime persone che mi hanno raccontato delle loro passioni, delle loro esperienze. Quello che manca è che le persone che ascoltano Giardino Rivelato, le persone che hanno la passione per questo giardino perduto, che si nasconde dietro le nostre parole, non hanno avuto modo di conoscersi. E questa sarà la prima occasione. La prima occasione per fare insieme una cosa, per chiacchierare, scherzare, lavorare insieme sui nostri giardini, portarli dentro casa e farli crescere, e crescere noi insieme a loro. Se ti fosse venuta la curiosità di sapere in cosa consiste, ti lascio un link che è ungiardinoinsettegiorni.giardinorivelato.it 7 a numero, e però te lo lascio nella descrizione, quindi puoi andare e vederlo da te. Una volta raggiunto questo link avrai una descrizione con il programma di questa sfida, di questa challenge di un giardino in sette giorni. Se ti interessa puoi compilare il modulo e terminare l'iscrizione acquistando il biglietto. Una volta fatto questo, io sarò a tua completa disposizione, e venerdì 6 novembre cominceremo. Io sono emozionatissimo, sono molto curioso di sapere come andrà, quindi sarà un esperimento, un esperimento e sarà un modo per conoscersi attraverso l'amore per la natura, e attraverso il tentativo di portare un pezzettino di natura dentro le nostre case. Se avessi un qualunque dubbio, ti invito a non esitare a contattarmi, scrivimi. Detto questo, io ti invito a lasciarmi un commento, farmi sapere cosa pensi di questa iniziativa. Io sono emozionatissimo, quindi penso si sia visto durante questo video, e spero di vederti presto in questo nostro piccolo gruppo di pionieri che tentano di realizzare un giardino in sette giorni. Ciao!